Musica Aggressioni nel centro storico Afano, 16 provvedimenti adottati dal questore della provincia di Pesaro Urbino. Musica Oggi a Morciola l'ultimo saluto a Simone Mezzolani, l'operaio 33enne morto sul lavoro in una fabbrica di Petriano. Musica Più personale e nuove strutture al servizio delle famiglie nel programma elettorale di Fanesi Sindaco, tra breve entreranno in servizio tre nuovi asili nido. Musica Qualcuno sta lavorando per commissariare il comune di Mombaroccio ed incorporarlo in uno più grande, l'allarme e l'appello del sindaco Emanuele Petrucci che corre in solitaria per il secondo mandato. Musica Un'Europa in cui l'Italia possa diventare grande che non obblighi un paese ad applicare politiche che danneggiano. L'augurio della seraprice Craxi che oggi ha fatto tappa a Fano, l'80% dei provvedimenti sono di derivazione europea ed è lì ha detto che dobbiamo difendere i nostri interessi. Musica Carenza di parcheggi in zona mare a Fano, da giugno una nuova area da 3.000 metri quadrati per la sosta gratuita delle autovetture. Musica Convegno della Cia d'Urbania, giovani anziani insieme per agricoltura, ambienti e alimentazione. Musica La FIAB premia la TechPerm di Fano che incentiva i suoi dipendenti all'uso della bicicletta per recarsi al lavoro e la prima azienda delle marche a riceverlo. Taglio del nastro al Lido di Fano per la 22esima edizione del Brodetto Fest, il premio lanterna azzurra a Fano consegnato a Maria Lucia De Nicolò, direttore del Museo del Mare di Pesaro. Musica Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo con la cronaca, 16 provvedimenti, 13 dei quali emanati nei confronti dei soggetti protagonisti delle aggressioni avvenute negli ultimi mesi in zona Pincio, nel centro storico di Fano e all'esterno dello Sport Park. I provvedimenti sono stati adottati dall'acquistore della provincia di Pesaro Urbino, Francesca Monterreali, al termine di un'attività di analisi della divisione anticrimine, aventi come obiettivo la prevenzione di condotte violente, criminose o comunque pericolose per l'ordine e la sicurezza della provincia. Per i fatti accaduti a Fano sono stati emessi 7 avvisi orali e 6 divieti di accesso ad aree urbane. Tutti i soggetti, inoltre, sono stati segnalati per reati contro il patrimonio, risse, spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti in ambito domestico o fuori dai locali pubblici. Ulteriori tre provvedimenti sono stati emessi nell'ambito di differenti attività di indagine per episodi di stalking e violenza domestica. Si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Annunziata di Morciola i funerali di Simone Mezzolani, il 33enne morto schiacciato da un macchinario mentre lavorava in una fabbrica di Petriano. Oggi, l'ultimo saluto, mentre proseguono le indagini dei carabinieri di Urbino, resta da chiarire perché la macchina sulla quale l'uomo procedeva alla manutenzione dopo averla disattivata, ha ripreso a funzionare causando il grave incidente di lunedì scorso. Un posto importante nel programma elettorale del centro-sinistra è stato riservato ai servizi educativi. A questo proposito non mancano le novità che le hanno annunciate Samuele Mascarini e il candidato sindaco Fanesi con il prevedere di un fondo di 500 mila euro all'anno per le manutenzioni e l'organizzazione della mensa per le scuole medie. Ce ne parla Massimo Foghetti. Cristian Fanesi, maggiori investimenti nel settore dell'edilizia scolastica per il prossimo quinquennio, se sarà eletto sindaco? Sì, sarà importante investire su un fondo straordinario per la manutenzione delle scuole. Abbiamo fatto tanto in questi anni, abbiamo sistemato le tre principali scuole medie di Fano, la Nuti, la Gandiglio i cui lavori sono in corsi e la Padalino dove abbiamo sistemato il tetto, abbattuto le barriere architettoniche e fatto insomma dei lavori di sistemazione per rendere questa più accessibile. Però noi abbiamo 49 edifici comunali adibiti a scuole e serve un fondo pluriennale, 500 mila euro all'anno, in maniera tale che l'ufficio tecnico possa programmare meglio e in maniera più corretta anche nel tempo, degli interventi adeguati per sistemare tutti i 49 edifici scolastici a cui teniamo tantissimo. Per quanto riguarda i contenuti invece è chiara la nostra proposta, tre asili nido sono in costruzione e dunque è una scelta politica che noi rivendichiamo, lo stiamo costruendo nel 2026, il time schedule del PNRR ci dice che questi asili saranno pronti, dovremo assumere il personale, perché è un personale formato, un personale direttamente dipendente dal comune e questa è la nostra possibilità e servirà a fare un concorso per una ventina di istruttrici e istruttori che andranno a offrire un servizio di cui noi siamo già orgogliosi e che potrebbe anche diventare migliori sicuramente in termini numerici, perché 120 sono i posti che da qui al 2026 verranno offerti per gli asili nido. Samuele Mascherin, quali sono le priorità programmatiche all'interno della coalizione di centro-sinistra per quanto riguarda i servizi educativi? Il centro-sinistra in questi anni ha investito molto sui servizi educativi e in generale per il mondo della scuola e insieme al candidato a sindaco del centro-sinistra, Cristian Fanesi, noi vogliamo in questi ultimi giorni raccontare anche quello che abbiamo intenzione di fare nei prossimi anni al governo di questa città con tre proposte che riguardano la rifezione scolastica, gli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole e anche il tema del personale educativo. Tre scelte diverse ma molto forti che possono fare la differenza non solo per le bambine e bambini ma soprattutto per le famiglie. Pensiamo ai tre nuovi nidi che stiamo costruendo in questo momento, Vallato, Bellocchi e Cucurano, del personale che sarà necessario, dell'opportunità di poter estendere alle scuole medie la rifezione scolastica e gli interventi assolutamente importanti e necessariamente da programmare per le scuole della nostra città. Recentemente in alcune scuole fanesi sono apparsi problemi di carattere strutturale e questioni anche di carattere ambientale. Ecco, com'è lo stato delle nostre scuole e che cosa magari intenderete fare per bonificare il tutto? Beh, intanto ricordiamo che ne abbiamo costruite diverse di nuove in questi anni, abbiamo bonificato dall'Amianto tutte le nostre scuole, che era un intervento atteso da decenni e abbiamo fatto anche alcuni interventi importanti, perso la Nutella, Padalino, quello concorso alla Gandiglio, di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili. Ma abbiamo 49 scuole e per questo serve un fondo speciale che consente appunto di garantire una manutenzione straordinaria, non solo ordinaria, puntuale per tutte le scuole, anche quelle più piccole e su tutto il territorio comunale. Anche nella nostra provincia diversi candidati corrono da soli e dunque senza avversari per la carica di sindaco. Ma se non dovessero raggiungere il quorum del 40% degli aventi diritto alla voto, il comune verrebbe commissariato. Simona Zonghetti ne ha parlato con il sindaco uscente di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che ha lanciato l'allarme. Pare infatti che qualcuno stia lavorando per avere un commissario prefettizio, al quale verrebbero consegnate le firme necessarie alla richiesta di incorporazione in un comune più grande. Sentiamo. Petrucci, lei ha scelto di scendere nuovamente in campo, ma a differenza di 5 anni fa corre in solitaria. Che cosa prevede la legge in casi come questo? La legge è chiara. La legge dice che bisogna intanto raggiungere il 40,01% degli aventi diritto. Monbaroccio ha 1.661 votanti, pertanto 665 è il quorum da raggiungere. In seconda battuta prevede che di quel 40% almeno il 50% siano schede valide. Quindi occorre raggiungere due quorum. Innanzitutto quello del 40%, il secondo quello del 50% per le schede valide. In caso contrario qual è il rischio? In caso contrario la soluzione sarà adattata dal Ministero con il commissario prefettizio. Quindi non ci sarà più un sindaco, non ci sarà più un'amministrazione, non ci sarà più una giunta con cui confrontarsi, ma un commissario prefettizio sostituirà il primo cittadino, nonché l'amministrazione comunale. E se si lascia un comune nelle mani di un commissario che cosa potrebbe accadere? Sicuramente nel rispetto naturalmente della prefettura e dei commissari prefettizi verrà meno il dialogo, verrà meno il confronto, verrà meno quello che i cittadini trovano nell'amministrazione comunale che la Costituzione e nonché i principi di una Repubblica vedono nel confronto con l'amministrazione, nel confronto con i suoi consiglieri, nel confronto con la giunta, nonché con il candidato sindaco o il sindaco dovesse essere rieletto. E questo è un principio che purtroppo sta venendo meno. Non so se avete fatto un sondaggio a livello nazionale, ma i dati sono chiari. A votare ci va sempre meno persone. L'assenteismo è sempre più dirompente. Io mi permetto di dire che quell'assenteismo può essere legato anche alla mancanza di comuni. Il venir meno dei comuni porta all'allontanamento dalla politica, perché poi il riferimento del cittadino, a prescindere che la competenza sia comunale, provinciale, regionale, ministeriale, europea, il cittadino vede sempre nell'amministrazione comunale un punto di riferimento. Pensiamo alla fibra, un disservizio enorme a seguito di un bando ministeriale e i miei cittadini mi chiedono in continuazione a che punto sia la fibra, cosa fa l'amministrazione per la fibra, cosa fa l'amministrazione per la sanità, come per tanti altri aspetti. Quindi viene meno il bardoardo territoriale il punto di riferimento per i cittadini. E se viene meno quel punto di riferimento, viene meno anche la speranza, viene meno la concretezza, viene meno la vicinanza del cittadino alla politica. E questa è un'analisi che volevo riportare. La seconda analisi che mi preoccupa di più, almeno per quanto riguarda il mio piccolo comune, è legata al fatto che c'è qualcuno che lavora affinché non ci sia un sindaco, ma ci sia un commissario perfettizio. E questa è la cosa che non accetto. Non l'accetto perché lavorare in maniera subdola, non voler presentare una lista, non per contrapporsi o per far sì che la politica sia confronto, contrarietà, rispetto delle scelte, non rispetto delle scelte, ma comunque confronto. Perché io ho sempre detto che una forte minoranza vuol dire avere una forte maggioranza, vuol dire lavorare al meglio per la cittadinanza. Il tentare di non portare una lista al voto per far correre una sola lista, con l'obiettivo di non raggiungere quel 40% di cui prima dicevamo, è un tentativo subdolo per far sì che non posso vincere, ma voglio far perdere tutti. E farci perdere due volte, perché da quello che mi giunge dai miei concittadini l'obiettivo è non far raggiungere quel 40% per raccogliere altre 200 firme e consegnarle al commissario prefettizio per tentare di nuovo l'incorporazione in un comune più grande. E questo non lo possiamo permettere. Andrebbe di certo discapito di tutta la comunità, a questo punto qual è il suo appello? L'appello è innanzitutto rispettare il principio fondamentale che i padri costituenti e la Repubblica Italiana ci hanno insegnato 77 anni fa, il 2 giugno sarà una giornata simbolica da questo punto di vista, anche sulla base di quello che ho detto. Quindi andare a votare nel rispetto di chi ha dato la vita per il voto. Ma soprattutto non disperdere un lavoro immenso che è stato fatto in questi cinque anni, non da me, ma da un gruppo che ha lavorato, dai cittadini che hanno voluto un confronto, dalle associazioni che hanno sempre collaborato. Quindi da una cittadinanza che in questi cinque anni si è andata da fare per rispondere a un percorso che era quello poi del voler far scomparire il nostro comune nel 2016. Quindi una risposta che va data ulteriormente in questa istanza, ulteriormente l'8 e 9 giugno, si voterà l'8 giugno dalle ore 15 alle ore 23, sabato, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Due schede, quella europea di colore rosa-rossastro, quella comunale di colore azzurro. Mettete una croce su ancora più avanti. Emanuele Sindaco. Torniamo alla cronaca. Un ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina alle 12.30 in Via Roma a Fano. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia locale, l'uomo, un 61enne, in sella alla due ruote, stava circolando sulla pista ciclabile quando, forse per superare un'altra bici, si è allargata alla sua sinistra, venendo a collisione con una Fiat 500 condotta da una ventenne. A causa dell'urto, il ciclista è finito a terra. Dopo circa mezz'ora è arrivata un'ambulanza di Pesaro perché quelle di Fano erano tutte fuori. Gli agenti della polizia locale hanno prestato i primi soccorsi e l'infortunato, rimasto sempre cosciente, è rimasto in strada, sdraiato fino al suo arrivo. È stato poi trasportato al pronto soccorso del Santa Croce. Questa mattina ha fatto tappa a Fano la senatrice Stefania Craxi. La parlamentare, nel suo tour elettorale, ha incontrato cittadini e sostenitori a favore del candidato sindaco Luca Serfilippi e della lista di Forza Italia. Senatrice, qual è il suo concetto di Europa ideale? Un'Europa dove l'Italia possa diventare grande, quindi che non obblighi un paese o una nazione a applicare politiche che la danneggiano. Un'Europa che sappia parlare una voce sola in politica estera di difesa e diventare così quell'attore tanto necessario sullo scenario internazionale. Visto che le elezioni si stanno avvicinando, qual è un messaggio che vorrebbe mandare a tutti i cittadini? Che votare l'Europa è importante, perché l'80% dei provvedimenti che noi processiamo nel Parlamento italiano sono di derivazione europea ed è lì che noi dobbiamo difendere i nostri interessi. Perché votare Forza Italia? Perché Forza Italia è un voto utile. È l'unico partito dello schieramento anche di centrodestra che appartiene al Partito Popolare Europeo, partito di maggioranza europea in Europa e lì contano le famiglie europee e non i partiti nazionali. Quindi Forza Italia sta in un luogo dove potrà incidere. L'amministrazione comunale di Fano, per ovviare alla carenza di parcheggi in zona mare, ha individuato un'area destinata alla sosta gratuita, un intervento che si è reso necessario per rispondere alle esigenze non solo dei cittadini ma soprattutto di turisti che in un flusso crescente si recano nel periodo estivo nella città della Fortuna per accedere agli stabilimenti balneari. Una misura che accoglie anche le richieste degli operatori economici dell'area interessata. A testimonianza si legge in una nota della condivisione sugli obiettivi e sulle priorative che l'ente intende perseguire. Tale iniziativa è stata ratificata con delibera di giunta così da aumentare gli stalli destinati al parcheggio. L'area si trova in via Gentile da Fabriano, si estende su 3.000 metri quadri e accoglierà un cospicuo numero di automobili dai primi di giugno al 30 settembre 2024. Dal primo giugno si provvederà alla pulizia del verde e alla segnaletica necessaria. Per raggiungere il parcheggio si dovrà accedere da via da Fabriano a circa 30 metri dopo la rampa che scende da Viale Battisti. Trattandosi di un terreno privato, l'amministrazione riconoscerà per l'utilizzo temporaneo di questa superficie un corrispettivo economico pari a circa 5.300 euro. I ritardi dei lavori all'anfiteatro Rastat non sono più accettabili. Chiediamo serietà e coerenza all'amministrazione. Lo dichiarano in una nota gli operatori di Sassonia. È partita la stagione estiva che per molte attività rappresenta il momento cruciale del proprio lavoro e siamo ingabbiati tra transenne e mezzi in azione. L'amministrazione ci aveva assicurato che il cantiere si sarebbe chiuso il 9 giugno, invece con molta probabilità si andrà incontro a un ritardo di due settimane. Siamo ostaggio di incertezze e continui rimpalli e rischiamo di vedere una flessione dei nostri incassi soprattutto per la mancanza dei parcheggi che sono stati tolti. L'individualizzazione di un'area di sosta in via Gentile da Fabriano sembra una toppa troppo debole, soprattutto per l'ubicazione. Oltre ad una condivisione della progettualità che non c'è stata, hanno proseguito gli operatori, ci saremmo aspettati che venissero rispettate le tempistiche. Stiamo vivendo un calvario che sembra non terminare più. Stefano Marchegiani, candidato a sindaco di Fano per la coalizione progressisti per Fano 2050, è intervenuto all'evento organizzato da Europa Verde su politiche ambientali 2050, sfide e opportunità per la transizione ecologica. Tra i temi trattati da Marchegiani, la manutenzione del verde pubblico, spesso frutto di un obiettivo quantitativo piuttosto che qualitativo, ha detto il candidato sindaco, riteniamo necessario, dice Marchegiani, valorizzare la figura della consulente in materia botanico-vegetazionale e procedere alla piantumazione di aree destinate al verde. Inoltre, secondo Marchegiani, è necessario il blocco delle industrie insalubri di seconda classe all'interno dell'ex zuccherificio. Il polo logistico deve essere situato nei pressi dell'uscita dell'autostrada per evitare un eccessivo traffico veicolare di auto articolati nelle zone a maggiore densità abitativa, ha concluso Marchegiani. Tra i temi trattati dal candidato sindaco, anche il potenziamento del trasporto pubblico e il servizio di raccolta differenziata. La Techfem si aggiudica un altro prestigioso riconoscimento per la sua attenzione alla mobilità sostenibile. Tra le dieci aziende in Italia, ricevuto dalla FIAB, la certificazione azienda Bike Friendly rivolta a quelle imprese che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e sostiene l'utilizzo della bicicletta. Un premio istituito appunto dalla vostra associazione alle aziende che incentivano la mobilità ciclabile. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di una certificazione, nel senso che le aziende aderiscono a questo progetto spontaneamente, volontariamente, e dimostrano di aver soddisfatto 55 requisiti. E su questo viene definito un punteggio e quindi consegnata una sorta di certificazione, quindi più che un premio, un riconoscimento delle azioni che le aziende fanno per i propri dipendenti e per consentire loro di essere accompagnati, informati, seguiti nell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. È un premio nazionale che rispondenza ha avuto tra le aziende? Allora, è un premio nazionale che però è anche la traduzione di un stesso identico protocollo che ha valore a livello europeo. Abbiamo iniziato nel 2020, abbiamo un buon riscontro, non tutte le aziende riescono ad ottenere questo riconoscimento. Abbiamo certificato aziende importanti come l'aeroporto di Bologna, l'aeroporto di Bergamo, la sede centrale di poste italiane a Roma e altre piccole aziende, soprattutto nel settore manifatturiero. Sempre di più quest'anno abbiamo delle richieste e stiamo iniziando con altre attività. Questa è la prima azienda in tutta la litoranea adriatica. Ecco, queste aziende devono superare così delle prove oppure avere un punteggio o qualcosa. Come viene dato questo riconoscimento? Allora, il riconoscimento di fatto va a verificare sei ambiti tematici, rispetto alla comunicazione, rispetto ai servizi che vengono offerti ai dipendenti, al personale. Vengono verificati quelle che sono le dotazioni proprio di attrezzature, quindi parcheggi, spogliatoi, docce e quant'altro. E quelle che sono le azioni di coordinamento, quindi di organizzazione vera e propria del personale. E ciascuno di questi elementi, a seconda di quelle che sono le attività messe in campo dall'azienda, riceve un punteggio che è prestabilito e da 1 a 10 ogni azione merita un tot di punteggio che stiamo provando a essere omogenei nella valutazione sia a livello nazionale che a livello europeo. La Tecfem è stata una delle prime aziende a ricepire questi input per la mobilità dolce, prima con la sottoscrizione di un protocollo, ora con il ricevimento di questo premio. Che cosa avete fatto nel frattempo per trasformare l'azienda in un'azienda compatibile, diciamo così, con l'ambiente? Sì, recepire gli input, ma anche promuovere delle azioni concrete, come naturalmente citavi, il protocollo d'intesa con Profiglas, ASE, Tefano Center, il Comune, FIAB, Forbici e Ami Adrebus è un ambito nel quale lavoriamo concretamente per andare verso un obiettivo di riduzione del numero di automobili che ogni giorno affluiscono alla zona industriale, quindi si muovono comunque nella nostra città in favore del trasporto pubblico, la bicicletta e anche carpooling, car sharing. Nella nostra città. Abbiamo fatto appunto questa come iniziativa di sistema a cappello di tutto e in collaborazione con queste entità individualmente abbiamo pensato di rendere la nostra azienda più appetibile, comunque più pronta a ricevere i nostri dipendenti ciclisti, i nostri colleghi ciclisti, tra cui me stesso, ovvero installando una bike station per poter ricaricare le bike o comunque intervenire per fare piccole manutenzioni e avere comunque una zona dedicata alla cura della bicicletta ma anche alla cura della persona perché ovviamente c'è bisogno anche di spazi come spogliatoi, docce, per poter accogliere il ciclista nel modo migliore. Ci spostiamo al Lido di Fano dove è entrato nel vivo il Brodetto Fest, il festival internazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce ideato da confesercenti di Pesaro e Urbino. Ieri al taglio del nastro c'era per noi Esther Musco. E partita in grande stile è la ventiduesima edizione del Brodetto Fest, la kermesse più gustosa della costa adriatica marchigiana organizzata da confesercenti che celebra il piatto tipico della tradizione marinara, il famoso brodetto. Un ricco programma fino al 2 giugno e Lido di Fano sarà palcoscenico di eventi e manifestazioni non solo gastronomiche ma anche ludiche e culturali. Da 22 anni proponiamo la cucina dei marinai ma non solo, proponiamo un territorio intero, proponiamo la città di Fano, i suoi pescatori, le sue eccellenze, il pescato. Ogni anno con tante novità ci si lavora per un anno intero, siamo qui a Lido di Fano e per 4 giorni da stasera fino al 2 giugno proporremo oltre 50 eventi che parleranno di mare, di pesca, parleranno di spettacoli, parlano di gastronomia, di sostenibilità del mare Adriatico, perciò ecco, tanti argomenti che sono molto molto interessanti per cui, come dico sempre, per 4 giorni chi verrà a Fano, turisti o fanesi, non avranno di che annoiarsi sicuramente. Il movimento turistico è dato dalla promozione dei prodotti enogastronomici, è un movimento turistico per cui oltre il 50% delle persone che verranno qui a Lido lo faranno per gustare i nostri prodotti, per gustare la cucina dei nostri pescatori. Un'altra grande novità del festival è quella della proposta della vongola dell'Adriatico. Avremo uno stand, un punto vongole dove un ristoratore insieme ai pescatori alle vongolare proporranno la vongola dell'Adriatico. Questo credo che sia un altro grande successo ma un altro punto di partenza verso la promozione di un altro grande prodotto del territorio. Dopo il taglio del nastro è venuto davanti alle autorità locali, regionali e ai vertici di confesercenti sotto il cielo minaccioso di pioggia che non ha fermato le tante persone che si sono volute a giudicare la possibilità di essere prime a degustare il brodetto cucinato dai cuochi marinari allo spazio brodetto bro. Lo show cooking della prima serata è stato realizzato dallo chef Alessandro Circello volto noto sugli schermi televisivi per essere promotore e divulgatore di una cultura gastronomica sana e salutare. Poi qui a Fano abbiamo tante eccellenze sia dell'agroalimentare di frutta e verdura ma anche ovviamente dalla parte del pescato. Noi siamo ciò che mangiamo e quindi alla fine dobbiamo cercare di associare tanti ingredienti e tanti colori. In questo caso metto anche cinque colori di verdura all'interno del piatto perché mangiando i cinque colori abbiamo le tante vitamine che ci servono per una giornata tra colazione pranzo e cena ecco mangiando anche con i cinque colori assimiliamo tutte le vitamine e in più può uscire il minimo indispensabile le verdure perché così andiamo a assimilare al meglio un po' tutte le vitamine questo può essere un suggerimento. Poi chiaramente quando utilizziamo panocchio tanti crostaci poi durante la serata racconteremo come estrarre al meglio il gusto da tanti pesci con la dieta mediterranea alla base della dieta mediterranea abbiamo i legumi ma abbiamo anche tanto pesce azzurro il pesce azzurro ha tanti omega 3 e omega 6 quindi che fanno bene e soprattutto hanno tante virtù nutraceutiche parlavamo del pesce azzurro magari il salmone cariata da Norveggia possiamo anche evitarlo qui abbiamo lo sgombro abbiamo le alici abbiamo tanti pesci azzurri in tutte le regioni d'Italia specialmente qui nelle Marche e quindi possiamo utilizzare il pesce azzurro come fonte di omega 3 e omega 6 chiaramente cotto nel modo giusto magari invece di mettere tanto sale possiamo mettere le erbe aromatiche io utilizzo il finocchiello le erbe aromatiche per andare ad abbassare anche il sale anche perché un gusto una sabidità già ce l'ha di suo la serata si è conclusa con il simpatico talk condotta da Luca Caprara di Cinefortune insieme all'attore regista Sergio Rubini che ha parlato di territorio e del suo rapporto col cibo e non è mancata occasione da parte dell'attore di palesare il suo storico e forte legame con il territorio marchigiano che è stato tra l'altro scenario del suo primo film e continua ad esserlo nelle sue ultime produzioni il Brodetto Fest proseguirà nei prossimi giorni con il suo ricco gustoso programma si conoscerà sabato sera dopo le 20 il vincitore della gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce la classifica si ricava sommando i voti della giuria popolare con quella tecnica di cui fanno parte tre dei migliori critici enogastronomici d'Italia Alberto Lupini direttore di Italia Tavola Igles Corelli chef insignito di 5 Stelle Michelin e volto noto di Gambero Rosso Channel e Nicola Dante Basile del Sole 24 Ore il piatto lo chef e la regione che guadagnano il punteggio più alto vincono il titolo di miglior zuppa di pesce d'Italia 2024 conduce la gara Monica Caradonna volto di Rai 1 come avete visto dalle immagini al Brodetto Fest rappresenta anche Mirko Carloni candidato con la Lega al Parlamento Europeo per l'Italia Centrale l'Onorevole ha colto l'occasione per discutere del futuro della pesca e delle norme che danneggiano i nostri pescatori Onorevole Mirko Carloni il Brodetto Fest lo sappiamo è un'occasione importante per parlare anche di pesca dove sta andando la pesca in Europa? Beh diciamo questa è un'occasione ottima anche perché siamo riusciti nel tempo a portare questo evento che era un evento nostro fanese ad un livello internazionale grazie anche al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Sovranità Alimentare con cui abbiamo collaborato negli ultimi anni per fare in modo che proprio il Brodetto Fest non fosse solo un evento enogastronomico ma fosse proprio un'occasione di analisi di confronto del mondo della pesca perché i nostri piatti a cominciare dal Brodetto sono credibili se dietro di loro c'è una filiera che pesca il pesce il problema è che l'atto pesca in modo particolare fatto dall'Unione Europea è trasmesso ai Paesi membri ha visto una grande contrarietà mia ma anche dalla Commissione Agricoltura e Pesca della Camera dei Deputati perché sostanzialmente condanna la chiusura a gran parte del nostro sistema della pesca allo strascico in una visione molto ideologica in una visione che prevede sostanzialmente la riduzione dello sforzo di pesca questo è un obiettivo che secondo me è sbagliato perché punisce le nostre marinerie e addirittura finanzia la dismissione delle barche cosa che nessun Paese fa peraltro la stessa sostenibilità che noi imponiamo ai nostri pescatori non siamo in grado di imporla a coloro che importano il pesce in Italia Giovani e anziani insieme per Agricoltura Ambiente e Alimentazione è il titolo del convegno organizzato dalla CIA a Urbagna per valorizzare l'importanza dei racconti delle vecchie generazioni e formare i giovani per un futuro migliore ce ne parla Stefania Schiaroli a Urbagna nella splendida cornice del Palazzo Ducale nella Sala Volponi la CIA ha organizzato il convegno intergenerazionale per valorizzare il rapporto tra le vecchie e le nuove generazioni intitolato Giovani e anziani insieme per Agricoltura Ambiente e Alimentazione sono stati i vari relatori che hanno tutti posto l'attenzione sull'importanza di trovare un punto di incontro tra innovazione e tradizione tra nonni e nipoti per ritornare ad uno stile di vita più sano hanno partecipato all'evento gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Statale della Rovere Urbagna Corso di Agraria Il convegno organizzato dalla CIA e dall'Associazione Nazionale Pensionati e dall'Agia che sarebbero i giovani agricoltori della CIA vuole focalizzare il problema dei giovani e degli anziani della loro relazione e del rapporto intergenerazionale che c'è Giovani e anziani possono essere determinanti per un'agricoltura sostenibile per la cura dell'ambiente e per una buona alimentazione c'è il tentativo di altri di mettere da parte le aspettative dei giovani e magari di lasciare gli anziani in disparti come se fossero dei pesi mentre invece entrambi possono dare un grande contributo per quanto riguarda lo sviluppo e una nuova modello di sviluppo economico del nostro paese Le considerazioni su questo convegno e come ha visto la risposta dei giovani? È un convegno che ha approfondito le tematiche poste appunto all'ordine del giorno ho visto i giovani veramente interessati che per due ore hanno taciuto hanno fatto silenzio ed hanno ascoltato tutto quello che gli veniva proposto e tra le proposte più importante è il ruolo degli anziani verso i giovani che possono dare loro delle prospettive reali concreti in base alle loro esperienze e quindi i media importanti ma gli anziani i loro consigli i loro modi di vedere la vita sono altrettanto importanti e questo credo che sia stato condiviso anche da loro Un incontro tra i giovani e gli anziani anche per trovare nuove metodologie per l'agricoltura no? Per l'agricoltura assolutamente perché abbiamo parlato di territori di fertilità dei territori di modi diversi di fare agricoltura di tenere sempre conto l'innovazione che è un elemento fondamentale ma anche tutti i consigli che vengono dati da chi esperienza ce l'ha per poter realizzare i propri sogni che ci sono perché poi quello che serve veramente è che questi ragazzi riescono poi a trovare a fare e a insistere su quelle che sono le loro ambizioni ma qualsiasi lavoro gli deve piacere deve essere fatto con passione e l'agricoltura può dare questo tipo questo tipo di sensazione quello che serve però chiaramente è il ruolo della società diverso dall'attuale una società che deve rivalizzare rivalorizzare fortemente l'agricoltura noi abbiamo un grande bisogno di ricambio generazionale quindi un invito ai giovani a dedicarsi all'agricoltura assolutamente sì ma un'agricoltura dove ci possono essere risposte per riuscire ad avere diciamo un reddito dignitoso che permette all'agricoltore e alla propria famiglia di vivere dignitosamente domenica 2 giugno si celebrerà il 78esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana per la provincia di Pesaro e Urbino la manifestazione provinciale avrà inizio alle ore 9 con la deposizione della corona presso il cimitero cittadino proseguirà poi alle ore 10 in piazza del popolo a Pesaro con lo schieramento dei corpi militari e civili dello Stato coordinato dal comandante del 28esimo reggimento Pavia durante la cerimonia dell'alza bandiera i vigili del fuoco si esibiranno srotolando il tricolore a chiusura del momento la lettura da parte del prefetto del messaggio del presidente della Repubblica le celebrazioni poi proseguiranno nel salone metaorense della prefettura e saranno consegnate 13 onorificenze a cittadini della provincia che con la loro attività si sono particolarmente distinti in vari campi l'evento terminerà con il concerto offerto dai talenti del conservatorio Rossini di Pesaro diretti dal maestro Vincenzo Piaggesi domani sabato 1 giugno al castello Brancaleoni di Piobbico si terrà una conferenza intitolata l'amirabile vita di San Francesco organizzata dall'associazione cultura e identità per l'occasione verrà inaugurata la mostra di pittura di Severino Braccialarghe ed è prevista la partecipazione del coro della cappella musicale del Duomo di Fano diretto dal maestro Stefano Baldelli invece domenica alle 21 e 15 alla Pinacoteca San Domenico a Fano si terrà l'annuale concerto di fine anno proposto dall'Istituto Diocesano di Musica Sacra quest'anno il programma è molto ricco e prevede esecuzioni di solisti al pianoforte e cantanti accompagnati dall'esamble di archi composto dai docenti della scuola significativa la presenza dell'orchestra d'archi giovanile dell'Istituto che raccoglie bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni saranno eseguite musiche di Bach Beethoven Mendelssohn Mozart Vivaldi e altri autori il concerto è ad ingresso libero dal 3 al 9 giugno è il comune di Isola del Piano il nuovo protagonista di 50x50 capitale al quadrato il progetto simbolo di Pesaro 2024 il calendario dal titolo La Donna Rurale condensa in una settimana il programma che Isola del Piano conduce in realtà per l'intero 2024 e che arriverà a conclusione il 15 ottobre giornata internazionale delle donne rurali l'obiettivo è dare voce al Paese e alle diverse generazioni che lo abitano con un'attenzione particolare alle donne rurali figure femminili che lavorano creano e vivono nei territori rurali è in programma lunedì 3 giugno alle ore 17 nella piazzetta Asta la cerimonia di inaugurazione della settimana da capitale nei giorni a seguire spazio a spazi espositivi mostre e installazioni passeggiate incontri culturali con Vanda Nasciva e Franco Arminio dopo di noi il meteo e poi l'approfondimento di Barbara Brunori e Etienne Lucarelli della lista di centro-sinistra Noi Civiche Fano seguirà uno speciale sull'inaugurazione del Brodetto Fest che vi ricordiamo proseguirà fino a domenica e poi un altro approfondimento di Daniele Bindella della lista di centro-destra Fano Cambia Passo domenica 2 giugno andrà in onda l'ultima puntata di Slurp ospiti la dottoressa Stefania Bertoni biologa nutrizionista Matteo Cavazzoni maestro pasticcere di Fano Roberto Signorini titolare di un hotel di Pesaro e Niccolò Marcucci Master Chef Junior Italia termina qui il nostro telegiornale grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV